Il riparte da Teballi che prova la tripla senza induzio ed è in più tre, si ferma il tempo, già di Starace, ancora in avanti 7-3-7, il punteggio Gabriele con un gancho, ben assegno, verso Taradei serve Gabriele da Teballi, ci gira Omaraj che l'affida, ancora Teballi, Gabriele prova con il t-trat bene con Omaraj, si sono dati un po' il cambio, si sono dati un po' il cambio, esatto, bella questa palla di Taradei, segna il spettacolo, in casa anche con la leggera di lui, c'è la cusura di Teballi che capisce a memoria un'idea, un'intervale di Petrella, lo chiude con Gesù che prova a darla a Omaraj, prova a uscire adesso all'arga per Taradei, il spettacolo da 3, solo la retina, solo la retina. Nella conclusione di questa stagione, il successo per la qualificazione alla Cigol, le stelle marine però non sono qui venute a guardare, il tiro di Gabriele che allarga immediatamente verso il numero 11 in Grilli, la palla per Giucchi, la palla a segno, Mattia da lui per ora, la sua solita sentenza, adesso Gori riprende un pallone al rimbalzo velocemente, la palla forte per Gesù che non ci pensa due volte, con una leggerezza unica, d'animo, di spirito e di tecnica. giro fa l'adesso del Supernova, in attacco con in Grilli, la rarga, trova già palacche, la rarga per in Grilli che si continua direttamente con un prossimo step back alla carry, la mette direttamente con il Q38, il sodalizio che coesiste da anni quello tra stelle marine e Supernova per la vicinanza, palla avanti il bellissimo tizionante, braviglioso, numero 4 di palla, Taradei, 47, 18 risultato, giro fa l'adesso, giro palla Taradei, prova con tutta di tiro, la dazza a palacche, il vito, mette il segno, la tripla, i palli, ancora il giro palla, bene, ancora la giro palla, Taradei, in profondità, gancio sinistro, perfetto, palla forte, il sapore, il pallone dall'altra parte, per Gabrielli, la solita velocità, mi devono star dietro i compagni per capire sostenere, intanto la palla della Magda, non c'è solo, prova 2 da un palacche, ha funzionato bene, 39-65, ha messo un campo a un quintetto che tu, levato per Vigas, adesso bene, di giro, il tiro di Gabriele, col time out, si chiude per ora, delle marine, 68, 67 per la precisione, 39, il risultato, palla dietro, volta a segno, adesso serve solo a tormentare la gara, palleggio, giro, bene, del paradei, il Giori, il Giori, entra, si fa valere con i suoi lunghi leve, riparte dal possesso supernova, Tebaldi, dietro per Lorenzi, la palla per Zappalà, che arriva più a fondo, il segno è bellissimo, un pelo troppo, Pietro Tappo, Tebaldi, la recupera, il segno è bene, 9 secondi, li vorrà scrittare tutti, sicuramente, numero 10, arriva, proverà la tripla, Tebaldi, e saluta tutti, al 0 secondi, Tebaldi, mette a segno il 75, 75, 46, giro, bellissimo, tappo per Paoli, a segno, da 3, messo su da Zappalà, al pallone, bellissimo, per Paoli, per Giori, per Giori. Cagli dovrà mettere in ordine la squadra delle sfine e marine. Con i tempi perfetti di tiro, un gran ritmo mette a segno Paoli, palla ancora a disposizione della supernova. grilli dietro schiena per me adesso anche supernova nel 2005 bellissimo il blocco di 9 brava giocata arriva sotto il canestro numero 11 bella gioca di colpe riprende le telemarie che prova subito a tirare bellissima la tripla se è così è da tre esatto di Paolo ripartire il timer con tre minuti esatti al termine il pallone di Debali con Diuciu che gira doppio giro prova a entrare direttamente al segno con il T2 è stato fondamentale è stato bene il back or i fondamentali del basket con questo back or al segno in bucata per Tebaldi supernova supernova che sta giocando l'ultimo minuto della stagione non smette non smette Grazie.